Con i suoi 27 piani e 100 metri di altezza, il grattacello di Rimini è dal 1959 un simbolo della città. Da più di mezzo secolo appare sulle cartoline che i turisti spediscono in giro per l'Europa e per il mondo. I lavori per costruirlo terminarono proprio mentre a Roma il riminese Federico Fellini stava girando la dolce vita e da subito divenne un'icona di modernità. Voluto dall'allora giunta comunale di sinistra e approvato dall'intero consiglio, ora è anche protagonista di un film, Cinema Grattacielo, presentato in anteprima a Bologna al Biografilm Festival dal suo regista Marco Bertozzi che ha cominciato a lavorarci nel 2005. Quando sono andato a abitare nel grattacielo di Rimini al 24esimo piano mi sono reso conto di quale ricchezza sia paesaggistica che umana, che antropologica ci fosse. Quindi ho iniziato a fare qualche ripresa, prima per me, per documentare in libertà la situazione e poi piano piano è nata l'idea di farci un vero e proprio film. Il film è prodotto con Rai Cinema dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, da altre forme e dall'associazione culturale Condominium. Lo scrittore Ermanno Cavazzoni dà la voce al grattacielo, presentato ormai quasi 60 anni fa come un soggiorno di collina in riva al mare. E ora è diventato un rappresentante dell'Italia contemporanea, pensa che ci abitano 18 nazionalità differenti e che in qualche modo sembra essere uno spaccato sociologico appunto della nostra contemporaneità. È un posto che negli anni ha subito varie evoluzioni dall'essere un luogo ricercato dall'alta borghesia bolognese, milanese, per le sue modernità tecnologiche, ad aver avuto poi un periodo di decadenza, fino ad oggi invece a accogliere giovani coppie, artisti, filmmaker ma anche ambulanti o anche persone appunto di tante culture. Quindi è un vero croggiuolo della nostra contemporaneità.